Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Osm Siamo ritornati ragazzi oggi con un nuovo episodio, tutto da vivere Però ragazzi, prima di partire col video, come faccio da un paio di video a questa parte Aumentiamo sempre di un mi piace, quindi il numero minimo di like richiesti per il nuovo episodio Nello scorso video erano 16, questa volta ragazzi come state vedendo siamo arrivati alla 17esima partita Quindi 17 like ragazzi per l'episodio di domani Se ci arriviamo bene ragazzi, se non ci arriviamo non uscirà l'episodio Comunque ragazzi lasciate un bel mi piace, soprattutto se non siete iscritti iscrivetevi e attivate la camprellina Io direi adesso di non perderci in chiacchiere, andremo subito con la prima partita con il Barcellona Gioniamo fuori casa contro il Real Valladolid Partita sicuramente non semplicissima, però comunque alla nostra portata Siamo primi in classifica ragazzi con il Real Madrid almeno un punto Quindi in caso di sconfitto pareggio nostro il Real Madrid ci supererebbe sicuramente Quindi mi raccomando testa, testa ragazzi perché col Valladolid Esiste solamente una parola imperativa che è vincere ragazzi Nulla di più Comunque siamo partiti subito noi forti al primo minuto con Lewandowski Però come è normale che sia non segniamo subito Intanto qui Cancelo mi prende un bel giallo Perfetto, perfetto, perfetto Occasione spiegata, attenzione il cross è stato piazzato Lewandowski sembra intenzionato a provare la bicicletta Dai Robert Dai Robert per sbloccata al ventitresimo Robertino Lewandowski 1-0 Su assist di Cancelo Dai così Con la pressione del diavolo Mancunque riesce ad attaccare il pallone sul calcio d'angolo Christopher per il 2-0 Peccato, peccato, peccato Peccato, peccato Va bene, va bene L'ha parata il portiere, va bene Dobbiamo come minimo fare il 2-0 ragazzi Perché sapete bene che io con questo gioco non sono tranquillo Finché almeno non facciamo il secondo gol di vantaggio Finisce il primo tempo e ci vediamo con il secondo Rieccoci con il secondo tempo Ripeto ragazzi Concentrazione e fare come minimo il secondo gol per essere tranquilli Che si con una bella palla filtrante De Jong sgancia la bomba Frankie De Jong Peccato Ma sentivo Comunque non so perché stia giocando che si Non, vabbè Ah no, si ok Mi sa perché ho fatto rifiutare qualcuno Perché era un po' stanco Attenzione qui in mesa Può provare a segnare Prendere gol al 51esimo Dopo il primo tiro in porta Palo Godo E Godo E Godo E Godo Ottimo cross di De Jong Dove compare che si Frankie il sergente Il sergente Il sergente Che si 2-0 Io si potrebbe anche skippare secondo me ragazzi Perché alla fine secondo me il Real Valladolid non può mai recuperare Però comunque siamo ancora sul 2-0 Quindi facciamo scorrere la partita Siamo già arrivati al 79esimo Con Amalà Che può provare il tiro Per il Real Valladolid Nulla da fare però Nulla da fare La parata del portiere Va bene così E penso ragazzi che ormai sia finita Dembélé però intanto La mette in mezzo Per De Jong Che potrebbe fare il 3-0 Per il 3-0 Nulla Nulla va bene Ma a noi non ci interessa Va bene La parata del loro portiere 81esimo Attenzione qui Passaggio filtrante di Aguado Per Anuar Che deve solamente mettere Alle spalle del portiere Attenzione Non subiamo gol Ok Subiamo questi gol stupidi Esce di poco oltre il palo Va bene così Ottimo gol di Lewandowski Dove compare il suo Cancelo Vediamo se questa volta l'assist Lo fa Lewandowski E segna Cancelo Peccato Avrebbe stato bello Gli avrebbe restituito Il favore Ma va bene così La parata del portiere Qui cambio per Per il Valadolid Cuncu Ha fatto un ottimo lavoro Nel metto l'impotizione E ovviamente Lewandowski Proverà a segnare Per il 3-0 E per la doppietta Nulla Nulla da fare Nulla da fare Palo Va bene Va bene Non mi arrabbio Perché stiamo vincendo Abbiamo vinto Non mi arrabbio per questo Finisce ragazzi Al 91esimo la partita Vinciamo per 0-2 Direi ampiamente Meritata Però come sempre Vediamo le statistiche Io penso che almeno Un 12-13 tiri L'abbiamo fatti 10 10 Va bene 10 tiri a 4 Ragazzi Meritati Pubblicità del cavolo Dicevo Ampiamente meritata Ragazzi Il Real Madrid Sta sempre sotto Ragazzi Non ne vuole Sapere di perderne mezza Non ne vuole Sapere ragazzi Un punto Sopra il Real Madrid Poi le altre sono a Meno 8 Quindi comunque Possiamo stare tranquilli Nei confronti Degli altre squadre La prossima partita In casa Contro l'Elce Elce che è 14esima Quindi partita super alla portata Ragazzi Non perdiamoci in chiacchiere Andiamo subito Avanti Con la prossima partita Con il Borussia Dortmund Siamo fuori casa Contro l'Ofnem Ragazzi Anche questa è una partita Da prendere Con le pinze Vi ricordo che qui In Bundesliga Siamo secondi A meno 3 Dal Bayern Monaco Quindi dobbiamo sempre stare Dietro al Bayern Senza dargli la possibilità Di scappare Altrimenti ragazzi Non la prendi più Comunque Azione nostra Al quarto minuto Nulla Peccato Peccato La parata del portiere La parata Va bene Attenzione Qui azione veloce Kane prova a concludere Con un tiro Attenzione A Derrick Kane Ok ok Io non ho visto La squadra Nell'Ofnem Ragazzi Quindi non so Se Diciamo Dal punto di vista Di Rosa E alla pari con noi Se sono più scarsi Non lo so Però già Kane Ha avuto due azioni In 7 minuti La cosa non mi piace Attenzione qui Giallo per Rodri Va bene Non ci interessa Finchè non attaccano Va bene Gaia Con una bella palla filtrante Saka sgancia la bomba Bucaio Ti prego Peccato Mai Mai una gioia Mai una gioia Va bene Va bene Va bene Dai 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 Fantastico scambio Tra Sclotterberg e De Jong De Jong adesso può tirare Frankie Ti prego Nulla Nulla La parata del portiere Va bene Dai 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 Finisce Il primo tempo Dopo 3 minuti Di recupero Un ampio recupero E ragazzi Bisogna portarsela a casa Bisogna portarsela A casa Dai Dai Giallo per Sclotterberg Va bene Attacchiamo 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 Attenzione Barella vuole fare Tutto da solo Ci prova dalla distanza Attenzione a Nicolino Rischio 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 La parata del nostro portiere Grande Cobel Però dobbiamo attaccare Ragazzi Dobbiamo attaccare Lo stiamo attaccando Sempre occasioni sprecate Ragazzi Nel secondo tempo Non abbiamo fatto ancora un'azione Ci credo No Cain Per Benzema No ragazzi Dai Che c'è ancora tempo Abbiamo 12 minuti Dai Un'azione Riusciamo a farla Esce Ma Ed entra Grealish No 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 Benzema Per Grealish Mamma mia Ragazzi Finita Ci credo Cioè ragazzi Non abbiamo fatto Mezzo tiro Nel secondo tempo Ragazzi Vabbè Ragazzi E vabbè Il Bayern Monaco sicuro Avrà vinto Quindi noi abbiamo fatto Un punto E siamo a meno due Il Bayern L'ha vinto Quindi sarà più cinque Ragazzi Sicuro Che il Bayern Che perde i punti Non penso Infatti siamo Adesso terzi A pari punti Con il Borussia Mönchengladbach Il Bayern Ha vinto Sarà a meno cinque Ragazzi E penso che Non lo riprendi più Non lo riprendi più Quindi mi sa che La nostra La nostra La nostra posizione Comunque Il nostro range La nostra posizione Di classifica Sarà allo tre Per massimo Il secondo posto Che ragazzi Il Bayern Non lo prendi La prossima È contro l'Egtrak Che sta proprio sotto di noi Vediamo che dobbiamo fare Ragazzi Che delusione Però Che delusione Che delusione Comunque Siamo contro il Torino Ragazzi Come sapete Prima in classifica È a meno otto Vincendo Andremo a meno cinque E riapriamo tutto No Zedatka ragazzi Ho lasciato Zedatka Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ragazzi Non ci credo Disastro 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 Ragazzi Disastro 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 ragazzi Disastro Ancora il Torino Disastro ragazzi Non ci credo ragazzi Calcio d'angolo Sterling di testa Reim Sterling di testa No ragazzi Disastro 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 Eh vabbè ragazzi Schippiamola va 4 a 0 Porca Porca 4 a 0 Col Torino 4 Ma vaffanculo però Dai ragazzi però Umiliante ragazzi Umiliante No ragazzi non ci sto Io mi divento ragazzi Io mi divento No ragazzi Il primo posto è a meno 10 Ragazzi che cosa gioco a fare Che cosa gioco a fare Ragazzi Io Penso Penso ragazzi di dimettermi Penso di dimettermi Intanto dal Napoli ragazzi Perché io con il Napoli volevo lottare per lo scudetto Ci riproviamo Nel senso che dal prossimo episodio Vedrete L'inizio di nuovo Cioè vedrete che sto ricominciando di nuovo col Napoli ragazzi Sì Sì Stessa cosa Forse con il Newcastle Il Barcellone Il Borussia ragazzi Per adesso le lascio Il Napoli Mi dimetto Lo sto già dicendo ragazzi Quindi dal prossimo episodio Ho vedretto una squadra nuova ragazzi Perché è inutile lottare Per la Champions Quando io con il Napoli volevo vincere lo scudetto Ho fatto delle cagate ragazzi Ho fatto delle cagate Quindi Errore mio Mia colpa Vediamo quello che succede con il Newcastle Ragazzi Se non dovessimo vincere neanche con il Newcastle Oggi Mi dimetto anche dal Newcastle ragazzi Mi dimetto anche dal Newcastle Senza se E senza ma Comunque Vediamo Vediamo Azione veloce Subito Zieliski Che può tirare Nulla da fare Palo Va bene Grazie gioco Qui giallo per Rudiger Dal Tottenham Che delusione Sì vabbè Messi Su calcio di punizione Vabbè raga No no io la salto ragazzi Pareggiamo Non me ne frega nulla Non me ne frega nulla ragazzi Non me ne frega nulla Mi dimetto anche dal Newcastle ragazzi Ufficiale Sì Ragazzi ottavo posto La Champions Sta a meno 4 ragazzi Io volevo Il primo posto ormai Se ne è andato a quel paese Ragazzi Mi dimetto anche dal Newcastle Ufficiale Non so sinceramente Se dimettermi anche dal Dortmund Perché comunque ragazzi Volevo giocarmela Fino alla fine Per lo scudetto Quindi non so Non so Se mi dimetterò Sicuramente non farò Non ricomincerò con Newcastle Ma farò un'altra squadra Che vedete direttamente Dal prossimo episodio Newcastle E Napoli Mi dimetto Il Napoli La rifaccio Quindi rifarò Nuovamente la carriera Con il Napoli Con Newcastle Non la rifaccio Cambio squadra Già so con chi farla E nulla ragazzi Lasciate un bel mi piace Di consolazione Arriviamo a 17 mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E ci vediamo con un prossimo video Bella ragazzi